Salve, ve lo dico sin da subito, questo video non ha senso. È nato tutto da una mia storia su Instagram dove chiedevo un consiglio di aiuto e tutti voi mi avete risposto allo stesso modo, con la stessa parola. Ho capito subito che era un meme, anche se non sapevo esattamente di chi, ma in quel momento mi ha fatto rabbia perché io vi stavo chiedendo aiuto. Enjoy! Godetevi il video! Mi rimane il singhiozzo. Porco D! Un cibacco! Basta che dici quella parola e risolvi il problema! Cienti a voi la vostra c***a di frase di m***a! Porco! Non c'è tutti i rimedi! Voi è nato mia alla! Martì, ma secondo te una persona che ha il singhiozzo per due ore dice che Viola gli passa? È una questione di rilassare il diaframma perché il singhiozzo è un'infiammazione del diaframma, non è che una singola parola Viola ti passa. Mi dura 45 minuti barra due ore a me. Il singhiozzo, se dico Viola, poi dopo ci metto anche la Madonna dopo e altre cose. Madonna Viola! PS, nel video dirò un sacco di parolacce, lo so, ma non sono io al normale. Di solito sono una brava ragazza, una vera chicchetta, ma quando mi si prende in giro o quando ho il singhiozzo a lungo ho poca pazienza. Viola! Viola! Viola una c***o! Sentite Dio! Viola non funziona! Ha funzionato? Dio Umberto, Dio! Viola è arrivata la gente! Viola di Viola! Dio santo! Sentite Viola dove ve lo dovevo infilare! Massimo rispetto! Viola! Vedo Viola, sì, vedo Viola, la dimostrazione che... Oh, dimostrazione, Viola non funziona, sfatiamo il mito! Oh mio Dio, come Babbo Natale! Vale, Ale, Ale, di che colore ce l'hai la skin? Non so. Viola! Viola? L'ho detto dieci volte e ancora c'ho il singhiozzo. Ma perché lo dici male? La gente ci crede anche. Ma andate a studiare, fatevi una cultura. Mo vi singhiozzo Dio santo nel microfono. Viola! Viola! Viola in VIP! Mi aumenta Dio santo se dico Viola, ma voi le vostre c***o! Porco Viola! Siamo in una delle mappe reworkate, ovvero Costa Viola, di colore viola, e questi sono i muri nuovi che sono aggiunti in VIP. Grande Dio! Oh, clippate! No, aspetta! Clippate! Aspetta, mi metto grande, dico Viola, e poi si inghiozzo così almeno per quelli che verranno su Instagram. Ma l'ho preso, c'è la clip. Viola! Ecco! C'è la e tre in livello, quattro, come ci sono arrivati? Con Rai Ginfiero che ha esteso l'abbonamento fino a settembre dell'anno prossimo. È uno che non è Viola, Rai Ginfiero. Io non è Viola, no. Voi e i vostri meme, e poi la gente che mi dice anche, no, ma funziona veramente! Madonna, vi rutto in faccia. Viola, oh. Venti là. Eh, non ha funzionato. Viola, vedi? Ma di che colore è il live train, Ale? Azzurro. No! Magari mi passa. È tutto il giorno che ho il zigchiozzo, secondo me una parola mi fa passare il zigchiozzo? Sì, se la parola è Viola. Se la parola è... Prova verde, come dice Lord. Verde! Oh che Dio, ha funzionato! La parola è verde! No. Il Viola. Oh la Dio Cristo, Viola, l'ho detto dieci volte, ce l'ho ancora, Dio uno, Jack. Non è di Wiki Wow, questo è sicuro. È bravo, bravo. No, no, no. Viola. Strano, però, prova a dirlo in inglese, Violet. Violet. Non è un senso. Ah! Vieni la cosa, così il zigchiozzo con osa. Che non ha il simbolo Viola. Allora no, devi prendere Jagal, perché è Viola. Proviamo a bestemmiare con il zigchiozzo. Ho provato a mettermi a testa in giù, Eger, e a bere l'acqua del sottaceti. Eh, quello serve. Non è aceto, è acqua del sottaceto. Ah, giusto, l'acqua del sottaceto. Dio Umberto, caro. Vabbè, il tuo singhiozzo è molto aggressivo. Forse devi dire Viola gridando. Forse devo dire un'altra parola. No, no, no. C'è Shax. Eh? Che ti dà un altro suggerimento, che non è dire Viola, ma trattenere a lungo il respiro. E questo c'è un'evidenza scientifica. Sì, sì, funziona perché c'è la morte. E lì dopo, quando muori, tu prendi il zigchiozzo e non ce l'hai più. Viola. Vabbè, questo ti vede come. Porco due. Va bene, un givapo. Viola. Viola. Oh, porco. 19 secondi. Ma ogni volta che lo dico mi aumenta. E non ne posso più. Porco due. Vuoi provare a bere e trattenere il respiro facendo una magia tecnico-tattica? Lì prova a dire Viola. Viola, Viola, Viola. Ma vi spari, Dio santo. Viola, 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 Viola. Non mi passa. Ok, vediamo. Forse può stare. Porco Viola. Una scritta, prova a bere l'acqua a 90 gradi, ma muori. Mi si scioglie l'intestino e lo stomaco. Che poi mi sembrava che il canale era di colori gialli, non Viola, però. Ma non è poi che se uno deve credere ai placement, capisci? Cioè, è sul canale Viola, è ovvio che dice Viola, no? Cioè. È sponsorizzato. Ma dove vogliono, no, io. Oddio. Ringraziatemi il figlio nostro fierissimo. Grazie, ragazzi, fiero. Cioè, sta uno in Cool Vibes. È qui? Sì, sì. Pezzo di pizza. Occhio in casa ti sale. C'ho un pugnetto là. Ah, c'è la pugnetta. No! Mi sa che muoio presto. Listo. Dalla forza di grande, di barra. Addosso a te, lì. Adesso. È il rotation punto, un pugno, idea di te. Viola! Viola! Violato dell'animo! Chi di dio! E andiamo! Porco, me voglio morire. Allora, facciamo il meme. Proviamo tutti i consigli. Sette sorsi d'acqua. Sette. Ale. Vai per il meme. Dai, per il meme. Ma si respira o no nel mentre? Non lo so. Sette. Respirare di no. Vado. 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 Il viola abbiamo dimostrato ampiamente che non ha funzionato Ma possiamo dire che il ninja dei poveri Ne ho fatti un po' più di 7 Che erano fatti 9 per sicurezza Non è andata lontano eh È il metodo della nonna, non è la migliore Ma io ho hittato Gambizziamo un 2, non so se l'hai capito Il mito, che dire viola Non funziona Disse in gappà Salutone Ma poi scriverei un libro Io sono viola Scrivete secondo voi qual è il miglior sistema per far passare il singhiozzo E di certo non è la parola Viola Lì ti sei ripresa? Sì ma la gente continua a scrivere viola È il meme ormai Tistica, tistica Non ce la faccio eh Penis piculus Ragà È questa la parola È passato Wow Dite penis piculus Penis violamus Non è più Anche Oh